Va bene Francesco, sono le 15.50, non abbiamo fatto nessun articolo di rassigna stampa. No, posso rubarti un attimino... Ma anche due me ne rubo. No, ecco, sapete che c'è una notizia che ogni tanto riemmerge dai giornali, che è la storia della prostituzione. Ci sono forti polemiche anche qua appunto nel Veneto. Alcuni anni fa un ragazzo di Treviso fermato a Venezia che andava prostitute di fronte al disonore si impiccò. Recentemente i Vescovi Veneti contengono a sostenere che c'è la necessità di punire anche i clienti delle prostitute. Ci sono molte polemiche sull'immigrazione, però quello che si nota dell'immigrazione è che chi arriva con i barconi in condizioni così disagiate sono gran parte uomini. Però se noi percorriamo la strada del Veneto da dita alla prostituzione notiamo che la presenza femminile è altissima. C'è un certo sacerdote, un certo Don Benzi, che va in televisione e che viene fatto a vedere che aiuti i disagiati. Il stesso Don Benzi che va a dire che i satanisti uccidono 20 bambini all'anno sacrificandoli a Satana. Alla faccia della polizia che non riceve, abbiamo servizi segreti, no? Cioè Don Benzi come servizio segreto sa che ci sono 20 bambini sacrificati, la polizia di Stato con tutti i suoi servizi segreti non sa niente. Questo Don Benzi è considerato un eroe perché aiuta le prostitute a riscattarsi. Vabbè, domandiamo, ho fatto domanda, da dove parte che se la domandassi se sono le prostitute, se qualcuno che fa il cliente delle prostitute significa che c'è una richiesta, c'è una domanda e c'è un qualcosa che deve essere affrontato. Vabbè, questo è un problema più ampio perché appunto le turbo sessuali le ha creati in monotesmo. Ma da dove arrivano queste prostitute? Don Benzi che corre, che fa le lacrime, che chiede i contributi, che chiede il sostegno, la solidarietà, che chiede i soldi, le chiese cattoliche e protestanti che andiamo a aiutare questi disagiati. Prendiamo il Corriere della Sera, non prendiamo un giornale sconosciuto, Corriere della Sera, sabato 15 ottobre, non secoli fa, 2005, non secoli fa. Articolo L'allarme di Monsignor Joba ha sinodato la chiesa, recluta in modo discriminato le giovani donne. E io volevo ricordare quanti donne sono arrivate dai paesi del terzo mondo dall'India, grazie a quel mostro di Maria Teresa di Calcutta. Ma l'articolo riporta tra le frasi, perciò una citazione, dall'Africa per diventare suore finiscono in strada. E io vorrei leggervi per intero l'articolo del Corriere della Sera. Per far capire che non è la parola mia o quella di Claudio, città del Vaticano. La denuncia arriva nel mezzo del sito di Vescovi in Vaticano. E' il nigeriano Felix Adenos Job, alcivesco di Yavadan, che parla e non lascia spazio ai equivoci. Il rischio di cadere nella prostituzione per le donne che vengono dalla Nigeria e dall'Africa in generale. Non risparmia nemmeno le religiose. Anzi, dice il Vescovo, aperte virgolette, sono molte le donne africane che, giunti in Europa e in America per dedicarsi alla vita religiosa, non si adattano a questo nuovo ambiente e cadono vittime delle persone e delle situazioni, diventando corpo spezzato di Cristo. Dice proprio così Monsignor Ligireno, corpo spezzato di Cristo, e implora di guardare a questa situazione con amore e compassione, aperte virgolette, parla sempre questo Vescovo. Le giovani religiose vengono sradicate, e io rimane con sradicate, dalla loro cultura e dalle loro tradizioni, e trapiantate in Europa e in America, dove spesso sono sopraffatte dal clima, dalla cultura e dalle usanze, e allora vengono espulse dalle istituzioni. Inevitabilmente molte di loro cadono in seguito vittime delle persone e delle situazioni, chiuse virgolette, parla sempre un Vescovo. Ma le parole di Job non si fermano a una pura denuncia. Punta con decisione il dito contro le modalità di reclutamento, cioè lui le recluta e poi si lamenta come vengono reclutate. Aperte virgolette, questo è un inciso mio. Aperte virgolette, in questi tempi la diminuzione del numero delle lesioni dell'antica Chiesa e il desiderio di sopravvivenza e di continuità hanno portato a reclutare in modo indiscriminato le giovani donne nei territori di missione, chiusi virgolette. Il Vescovo della Nigeria ha posto anche il serio problema dell'immigrazione e il Vescovo di tutto il mondo ha chiesto espressamente di occuparsi della cura pastolare degli immigrati religiosi. Ecco, io mi fermo qua per quanto riguarda questo discorso delle suore. Allora, le deportano, come la deportazione degli schiavi, le portano in Europa e una volta che non si dimostrano brave pecorelle, vengono abbandonate, nessuno si impegna più di portarle nei loro paesi e pensate che il termine stradicamento non l'abbiamo usato noi, né che fosse contro la Chiesa Cattolica, l'ha usato un Vescovo e ha detto che questo viene fatto perché la Chiesa ha bisogno di sopravvivere e di conseguenza ha bisogno di nuove pecorelle. E allora, quando vi viene detto di firmare l'otto per mille, pensate a cosa può succedere. Che il vostro contributo, come ne chiamano i territori di missione, serve a portare nuove prostitute sulle vostre strade e significa anche che quelle poverazze che vengono rubate dalla loro cultura, dalla loro terra, che vengono deportate, il termine l'uso un Vescovo, vengono sarradicate, gli viene cancellata la loro storia, diventano soltanto delle schiave, vengono portate qua per diventare suore e una volta che si dimostrano inadeguate, nessuno si occupa più di loro perché non si sono sottomesse alla parola di Cristo, non si sono sottomesse alla volontà criminale della parola di Cristo e vengono abbandonate. E poi, se finiscono sulle strade, c'è un bravo Don Benzi che pensa alla loro salvezza, che pensa a recuperarli. E poi c'è un bravo Don Benzi che vi viene a chiedere i contributi per la comunità Giovanni XXIII, la comunità del Papa Buono, del Papa che ha fatto un documento per difendere i preti pedofili. Anche queste sono organizzazioni segrete, intanto per essere chiari, cioè sono manifeste ma sono segrete allo stesso tempo. Ricordatevi sempre questa ambivalenza, essere manifesti ed essere segreti. Se si è manifesti si nasconde meglio il segreto, se si è segreti si può essere scoperti. Per cui guardatevi attorno un po' le cose e imparate a essere voi stessi. C'è appunto da farsi soldi la domanda, ma perché i vigili urbani, la polizia che sono così bravi a rincorrere dei mercanti, degli ambulanti abusivi e nessun sacerdote che si occupa di questa tratta di schiavi viene multato, non dico, non pretendo, sai, ma una multa. Ma perché la legge sull'immigrazione non viene applicata anche a questi sacerdoti? C'è una domanda retorica però. Quando hanno fatto questa legge, non so se appartiene a questa legge o a un'altra perché non ho i dati qui, ma c'è un paragrafo in cui la Chiesa Cattolica può importare bestiame, cioè leggi persone, dai paesi extracomunitari, no? E questi possono entrare in Italia e vengono forniti i documenti fin tanto che stanno nella Chiesa. Quando queste persone, suore o preti, se ne vanno dalla Chiesa, vengono automaticamente espulsi come immigrati. Per cui in pratica la Chiesa Cattolica ha un'arma di ricatto rispetto alle persone del Terzo Mondo e che è vergognoso che lo Stato abbia concesso alla Chiesa Cattolica quest'arma di ricatto. Cioè noi abbiamo terroristi come Scola, terroristi come Mattiazzo, terroristi della CEI che trafficano in bestiame umano alla faccia della Costituzione, alla faccia delle leggi. E qualcuno gli ha fornito anche, direttamente o indirettamente, gli strumenti per farlo, c'è il potere per farlo. E questo è veramente un'ignominia sociale, cioè una cosa gravissima. Io mi ricordo che alcune suore arrivarono qui a Venezia, immigrati extra comunità, e la polizia della questura di Venezia si precipitò a portargli i documenti. Ciò che non ha mai fatto con nessun altro immigrato. E questo è vergognoso perché significa che la polizia ha avuto comportamenti diversi per soggetti uguali. E questo è illegale, cioè è un comportamento che è illegale rispetto al dettato costituzionale. Che poi la polizia abbia obbedito a delle leggi periferiche o secondarie. Questo è un altro discorso. Perché vi ricordo che la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno sempre dichiarato che rispetto a leggi specifiche vale la Costituzione della Repubblica. Pertanto i soggetti immigrati sono sempre uguali, salvo le distinzioni di tutto quello che vogliamo, ma per le istituzioni devono essere comunque sempre uguali. Ma sai, io penso che ci sarebbe anche da lanciare un appello. Di questi scavisti che portano la gente in condizioni del genere, ma perché devono rischiare la vita? Diventano dei bravi sacerdoti e ne possono importare molti di più, senza problemi. Non rischiano il mare mosso. Per me sono i miei articometti. Cioè, nel senso, non rischiano il mare mosso, non rischiano le denunce, non rischiano l'arresto, non rischiano il sequestra del gommone, si diventano tutti i bravi sacerdoti e sicuramente i loro affari andranno meglio. Francesco, guarda che qualcuno sta già tremando perché gli hai scoperto il gioco. Cioè, non sei tu il primo che arriva, sono già arrivati. Sì, sì, no, ma... Poi, non ti preoccupare, fra 5-6 anni ci arriverà anche qualche poliziotto. Sì, no, ma questa frase, io ho letto proprio per questo articolo perché... O pubblico ministero, se vuoi. Sì, no, ma io lo voglio ricordare. Non è stato specifico. È divertente perché nessun uomo politico, neanche degli uomini politici che fanno campagna sull'argomento, hanno preso un articolo del Corriere della Sera e si sono intervenuti per questo senso. Ma scherzi. Siamo arrivati a un punto in cui, sembra che quasi i politici facciano la gara. Se non fosse stato per la crisi economica, questi non avrebbero neanche fatto pagare i lici per questioni di commercio alla Chiesa Cattolica, insomma. Cioè, è stata solo la crisi economica che li ha fermati. Sì, no, ma pensiamo che il Corriere della... Cioè, non è... Posso capire un politico che diceva, vabbè, non do retta a quello che dice Claudio Francesco. Vabbè, è una sua scelta. Ma qua ci troviamo di fronte a un quotidiano, il maggiore quotidiano italiano, il cosiddetto il più autorevole, il più sicuro, il più affondato, che titola... Il titolo è, aperti, virgolette, dall'Africa per diventare suore e finiscono in strada, chiusi virgolette. Io mi chiedo perché, ad esempio, tutti i comuni non fanno qualcosa e vanno a viciliare da dove arrivano queste prostitute che sono sulle strade. E poi, logicamente, i vescovi viventi vengono a chiedere che i clienti delle prostitute devono essere puniti. No, i vescovi dovrebbero andare in galera perché loro stuprono bambini cosa stai dicendo in ginocchio davanti al macellare di Sodoma e Gomorra.